Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato stamane ad Ancona all'inaugurazione dell'anno accademico della Politecnica delle Marche. Numerosi temi affrontati dal Capo dello Stato che al termine della cerimonia ha incontrato i familiari delle vittime della tragedia di Corinaldo. Apriamo dunque questa edizione con il servizio di Simona Carbonari. Alcuni forsennati hanno sparato a tante, uccidendo decine di persone inermi di religione islamica che stavano pregando in una moschea. Su loro armi hanno messo come riferimento e simbolo alcuni nomi, tra questi quelli traini. Condanna l'attentato in Nuova Zelanda il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Politecnica delle Marche. Presceduto dal Ligno d'Italia e da un lungo applauso il suo intervento, dove ha ricordato anche l'esempio di giovani come Giulio Regeni e Antonio Megalizzi, soffermandosi poi su Silvia Romano. L'attenzione, l'ansia e l'impegno è inalterato altissimo al massimo livello, sperando di poterla presto rivedere in patria. Nell'aula magna vestita a festa si sono succeduti vari interventi che hanno dato lustro alla cerimonia del cinquantesimo dalla Fondazione. A prendere la parola per primo al Ministro dell'Istruzione Bussetti, che ha sottolineato come sia necessario ripartire dal sapere per un nuovo corso dell'Italia e dell'Europa. Tra gli interventi, quello della professoressa Bettin sul valore economico delle immigrazioni e del Rettore Sauro Longhi. La conoscenza ha detto elemento primario di sviluppo sociale ed economico. Le università sono i porti dove le persone si incontrano e le conoscenze si scambiano. In questi 50 anni sono stati oltre 60.000 i laureati. Il 16 dicembre del 1969 nasceva la prima libera Università di Ancona con due facoltà, Ingegneria e Medicina. Nel 1971 veniva riconosciuta come Università Statale.